Nella prassi, non è il mestiere della dizione, la dizione è... Ma non c'hai da guardare quei quadri di merda, di quei posti, di quei borghi che siete contenti di andare a vedere se sfuggendo dalla fredesia del lavoro e finalmente ci si può accogliere in un riposo primordiale al di là di qualsiasi tipo di bordello e poi viene da me e mi sniffa i nier rape, ma che senso c'ha? Ha visto tutti i quadri, ha visto tutti i quadri del mondo Dario in quattro giorni Non è possibile Comunque, dicevo, la dizione non serve... ti posso chiamare? Certo, la dizione non serve per eliminare... Pensa se qualcuno gli avesse rotto il c***o mentre stava parlando della full art di Magikarp del c***o Pronto? Aspetta! Ciao da... Ti devo mostrare in live? No, no E che c***o vuoi? Sono truccato Sei? Non sono truccato Dimmi tutto Allora, nel tutto precisiamo che la dizione, soprattutto di chi ne parli, è una stronzata La full art di Magikarp è arte Partiamo da questo presupporto One Piece 09 quando esce farà il culo a qualsiasi set di Magik Una compagnia, quella di Wizard, che si arrampica sugli specchi da 15 anni Che fa carte di merda per niente ricercare... No, no! Smettila! Smettila! Dimmi tutto, Dario! Benissimo Ora che abbiamo ripristinato l'ordine Allora, innanzitutto complimenti Mario perché si è aumentato di abbonati Vabbè Pronto? Guarda caso quando ho staccato io le live E però... Niente Non si può parlare con Dario stasera, mi dispiace Proprio quando gli altri non streamano, lui aumenta Adesso facciamo capire all'Aki la differenza fra lui e Dario Moccia A posto Solo perché è struccato No, perché parla di soldi Vediamo se non parla di soldi quando entra Nick, grazie per il terzo mese Ave Ave Ciao Dario, sono tornato Oi, ciao Marione Oi Che stai? Innervosito Come mai? Perché mi parli di soldi Mai fatto in vita mia Come sta andando la vacanza? Bene, bene Mi hai chiamato soltanto per parlare di abbonamenti? Non ho capito, hai finito le argomentazioni? Allora, a parte che ti devi calmare perché tutto il mondo è paese Questa frase perché l'hai utilizzata? Perché in questo momento alloggi in un paese? No Ah Dove sei? Come dove sono? A Milano sono Ok, ok, ok Sono sempre nella stessa stanza, quindi che c***a domanda è? No, è che non riesco a vedere la live, sento solo l'audio Ma se hai fatto lo sniff, mi hai visto il live? No, ho sentito l'audio ma non t'ho visto di che location sei Capito? Dario che c***a vuoi? Come stai? Tutto bene, mi sono stappato l'orecchio Che ore sono? Le 22 Minchia Come passa il tempo? Veloce Non torna più Che è sta cosa? La nostra gioventù Dario posso Ti sto per mettere dentro la scena di OBS C'ho la barba lunga Mario, non mi piace Sei serio? Non vuoi farti vedere con la barba lunga? Va bene, dai Per un amico questo ed altro Va bene, non è che mi devi fare un favore Per dare un volto alla tua voce No, no, poi ci rifacciamo Non è che mi stai Ci rifacciamo in che senso? Tranquillo La tua immagine costa La tua immagine costa Ma non mi cagare la minchia 3, 2, 1, sei in live con la tua cam Come stai Mario? Ti vedo bene? Eh sì, è una bella giornata Per me, mi sono stoppato l'orecchio Dal tappo di Cerume Sono andato dallo Torino M, grazie per il primo mese Benvenuto Che è quella faccia? Perché sei pieno di dirimassugni dappertutto Grazie Ramon per il nono mese Sono pieno di dirimassugni E mi sono ficcato il codonfioc dentro l'orecchio Dentro i denti, dentro l'orecchio Io mi immagino se c'è intorno al c***o No, quello me lo lavo tre volte al giorno Quindi non è un problema Vabbè, devi equilibrare Ok, ci sono, ci sono, scusa E come va, come va? Che ore sono? Ma no, io dico Mario Ma quante volte te lo devo dire che va bene Va bene Va bene cosa? La vita O la vita se preferisci Ciao, buonanotte No, Dario Fermati, fermati Dario Dario, Dario Dario Vai, più 100 follower e via No Comunque No Ciao Dario, ciao Ciao Pasta Grazie per il terzo mese Bentornato Pronto? Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Dario Come va? Bene, bene Ecco Ecco qua Allora Hai veramente una faccia molto verticale Su Aspetta Vai Ah, wow Potevi farlo Certo Un po' modificato Smettila Dario Non interessano a nessuno i tuoi piedi Non interessano a nessuno Guarda che Ti posso zoomare da Discord? Guarda quel cellulare Guarda che naso Eccolo qua Un bambino del Che schifo Eh, esatto Ecco un piede pulito Ho fatto camminata oggi Andato nei borghi Nei borghi medievali francesi Ti sei divertita? Divertito Comunque Mi sono divertito parecchio Ho visitato i borghi medievali francesi Ho Ho mangiato di merda Ah, hai mangiato di merda? Lo stavo per chiedere Non hai mangiato bene Francia si mangia di merda E tutti quelli che dicono No, ma guarda Dario In realtà Se vai in questo ristorante Sono pochi Costosi E comunque Gli stessi ristoranti Che trovate in Italia Della stessa qualità Che consigliate voi In Francia Sono comunque molto meglio in Italia Cioè non c'è Vez ragazzi Su questo siamo imbattibili Ma in questo momento Dove sei tu? Io sono a Pappalardo È vicino Parigi Non penso proprio Sì, sì No vabbè Pappalardotè Scusami Ah, Pappalardè sei? Sì Sì Vicino Parigi E perché l'hai chiamata Pappalardo? È per familiarizzare me Cioè per Con la città Con la città Ah, ho capito Sì Va bene Il pubblico Familiarizza bene Con la geografia francese Sì, sì, sì Ho capito Ho capito Bella barba comunque Comunque ho girato Grazie Ho girato Nella bo... Scusami Ormai sto prendendo la pronuncia Del posto Ma sei da 17 ore Là bro Dai Comunque ho girato Tutta la borgogna Bravo bro Ma veramente Voi hai fatto l'applauso Che hai girato la borgogna Ma cosa c***o Vuoi fatto l'applauso Vuoi fatto l'applauso È importante ragazzi Secondo me Eh, vuoi fatto l'applauso Che senso ha? Cioè ha qualche errore grammaticale Vuoi l'applauso Vuoi l'applauso Vuoi fatto l'applauso Non vuol dire niente Ma non ho capito Tu vuoi dire Borda Dei Che tu fai Io non posso dire Vuoi fatto l'applauso A ragione Stanis Che avete rovinato l'Italia Pensate che soltanto voi Parlate italiano Voi toscani del c***o A parte che non c'entra nulla L'italiano Ti ho detto prima Che il Borda Il De È Vernacolo Livornese Però questo è italiano Che c***o vuol dire Ma vuoi fatto l'applauso È una cosa che si dice in Sicilia No No In Sicilia No lo so io come si parla Ragazzi Lo dico io Che cosa si dice in Sicilia Non lui Hai rotto il c***o Quanto? 5-10 minuti fa Con l'addizione Hai detto la frase in italiano Con l'addizione perfetta Ma l'hai sbagliata Non è siciliano Ma che c***o Entra l'addizione Quello che ho detto Riguardo l'addizione Sono due discorsi Completamente diversi No perché l'hai detto Con l'addizione perfetta Non in siciliano Hai detto Vuoi fatto l'applauso Ma vuoi fatto l'applauso Non vuol dire niente Sì ma È una frase che si dice in Sicilia Come salire il cane Scenderlo Ci sta Non sembra dalla tua faccia Che ci stesse però Però Va bene Sì Brulli Comunque Sono stato in Borgogna Che ore sono da voi? Non te l'ho ancora chiesto Dario In Francia C'è la stessa ora Piuttosto che in Italia Non fare così Non mi sono arrabbiato troppo Stessa ora Piuttosto che in Italia Piuttosto ho sbagliato Si dice in Sicilia Oddio La tozza del Fanta Expo Cosa? De Puppa me non possa Come stai? Che ore sono? Mi racconti di questa mannaia Borgogna per favore Oh guarda Dei posti Va bene Dico come sto Dario Che è meglio Sto bene Sto bene Sono liberato dal cerume Mi fa piacere essere liberato dal cerume Domani Cominciano i lavori allo studio L'hai visto? Allo studio? Al mio studio Sì è il mio Ah ok Dobbiamo dire l'indirizzo della casa? No Non diciamo l'indirizzo della casa Anche perché sarebbe un problema L'hai detto tuo in primis Non stai attento all'indirizzo Perché lì ci conoscono in tanti Sì Prende tutta Ponte d'Era Ti dico la verità Tutta Ponte d'Era Dai 20 ai 30 Ci conosci Ma sai che l'ho capito Dal fatto che sono andato in un ristorante Ho pagato E questo qua Io gli ho detto Grazie arrivederci Mi ha detto Ciao Mario È stato un piacere E mi ha fatto veramente paura Perché non aveva dato Un modo di farmi capire Prima che mi conoscesse Ha aspettato di salutarmi Comunque L'hai visto lo scherzo Che ho fatto a Marco? Sì Bro L'ho visto L'ho visto Hai fatto molto bene Io non l'avevo capito Mi era sembrato strano Perché non avevi detto Il nome del brand Però io comunque Mi ha fatto ridere Quando sono andato a vederla da Marco La storia Perché non l'avevo capito E Perché ha fatto quella storia Oh io sono adulto Non racconto più Le mie vacanze Eccetera eccetera E allora ho pensato a questo scherzo È partito da lì Godo Anche perché Quella era una storia forzatissima Perché fino a Una settimana e mezzo fa Quando ero tornato dalla Francia Ha detto cose Che ha fatto in Francia Quindi veramente Un pazzo Un vero pazzo Indirizzo del Puzzo Va bene Senti lo vuoi fare un fantacalcio? No Che indirizzo sono Nelle tue ore? Bello come primo commento d'altronde Tommaso Veramente Mi hai fatto veramente contento Grazie 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 Ma Dario Eh No no niente Vai 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 dimmi No 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 dimmi No Dimmi te No dimmi te Caro io e puzzi te Mario ma sei tu E adesso tutti quanti E adesso tutti quanti mi chiedono Se ho fatto il videoclip Con Bello Figo Si devono dire no in queste cose Reattato da Manuzio eh Si Dario che cosa hai in merito Cosa vuoi dire in merito Nulla Meno male No pub No pub Qualcosa l'ha detto alla fine Il Darione Ma tu lo sai quanta gente mi va a scrivere ogni giorno Manuxo ti ha appena dissato Perché si aspettano che io dica che cosa E che gli caghi in testa io E siamo la terza volta che me lo dici in live Ah scusami Forse la seconda però La terza secondo me eh Lasciate stare Manuxo A prendere soldi da un povero immigrato Vergogna di Mario Ma di che c***o parli Ma chi è che prende soldi Bello Figo Ah no no L'ho fatto gratis Ah No pub X Toast Mario mi sembra che prima durante la live Sbadigliasti quindi non ho capito Ma che c***o di Chiedi a Dario di Speed Dice Lory Lory ha detto chiedi a Dario di Speed E Lory praticamente Hai visto quante snob Lory no? Sì Lory fa lo snob è vero C'è Sul web Sui videogiochi Sui manga Sì 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 lo fa Lo fa lo fa Lo fa Eh Vede Speed Che salta O danza O semplicemente Boh Si alza e dice Ordo E lui condivide clip Tagga persone sul gruppo È contentissimo Cioè Allora non fare lo snob però Ah gli piace Speed Minecraft Tagga tutti E fa 400 clip Quindi puoi dirglielo quando vuoi Guarda Questa cosa mi aiuterà tantissimo E ti ringrazio E Hai visto che Jujutsu Kaisen Fra cinque capitoli finisce? Per forza! Ne parliamo dopo Di questa cosa ragazzi Che re sono? Dove puoi controllare tu stesso che re sono? Grazie Dani Sono blocca schermo Sono le 22.12 Dio buono Ho perso passaparola Passaparola Il programma di 15 anni fa Non l'hai perso L'hai perso L'hai perso di qualche anno Passaparola Non lo danno più a quest'ora In nessun canale Grazie A Golden Baffo per il primo mese Con la viga se preferisci Che c***o entra Ciao Diego Fichera Oggi c'è il season finale di Passaparola Grandi No ero contento Ma eri veramente strano Era veramente strano in quella posizione Anche Dario gioca con noi a Fall Guys No Uca Uca Non gli piace Fall Guys a Dario No non è che non mi piace Boh lo trovo un po' ripetitivo Lo trovo ripetitivo Hai aperto Grandissimo Ma che cosa Che ne pensi Della famosa cavalcata Di Francesco Fabriziani Non so Di nessuna incredibile cavalcata Dario nemmeno Non lo sai Stai attento Perché magari Non è il nome di un serial killer E non lo sappiamo Cinque capitoli Niente più storie Su Iuto e Su Eh? Vince l'Istrisce Quest'anno tra l'altro Si può scipera Il Giro d'Italia No Paolo di Siena L'Istrisce? Ma è un corridore È uno che sta in bici Che è chiamato No è la contrata È la contrata E' la contrata di L'Istrisce Ma non riesco a capire bro Non riesco a capire Fatto 3349 Run su Capped E trova Fall Guys Ripetitivo Vabbè ma Lo fa per platinarlo Capped Questo è Cherry Picking Totale Invece Che cos'è Cherry Picking? Mi ricordo C'entra niente C'è Capped Lo gioco all'infinito Perché vuoi diventare Cioè voglio fare Dei tempi Atturdi Voglio essere uno dei migliori giocatori Di Capped Fall Guys Non lo gioco Perché non mi interessa Diventare bravo A Fall Guys E quindi lo trovo Ma poi tra l'altro Trovare ripetitivo Un gioco Non vuol dire Che ti sottrai Alla ripetitività Di qualsiasi altro gioco Non ti trovi Nel vivere ripetitivo Cioè Che cosa vuol dire Potrebbe trovare Potrebbe giocare In maniera ripetitiva Altri 12 giochi Ma a Fall Guys Non gli piace Perché Non mi interessa Competere Non mi interessa Diventare bravo A Fall Guys E quindi mi risulta Ripetitivo Capped Non mi risulta noioso Lo faccio 100 volte E per quello Dicevo Cherry Picking Grazie Luca Per il primo mese Ti si chiede Del boss Ti chiede Quindi per favore Di non trollare Nella domanda Perché ci sta Andando forte Con Capped Qual è il tuo tempo Migliore senza DLC Su Capped Oddio senza DLC Lo sai che Non lo faccio Da tanto tempo Capped Senza DLC Non lo so Ti dico il tempo Con il DLC Se vuoi Il tempo Se non erro Più veloce È stato 47 minuti Con il DLC Quindi non lo so 37 sarà 37 38 Obi grazie per il Quarto mese Bentornato Tanti minchia in chat Ci gioca veramente tanto Ok col punto Grande boss Ciao Mario Ho un problema Con una ragazza Con cui mi sento Questa ragazza Non sa conversare Per la sua timidezza E le chat Sono molto vuote Cosa posso fare Guarda ti posso dare Un consiglio Eh daglielo tu Perché veramente Stavo per buttarla Di fuori bro Allora secondo me Le devi dire la verità Cioè Dille che l'ami Ma vai a fare in culo Dario Non ascoltare il consiglio Sta dicendo una cosa Praticamente Una bottata Sta facendo Non facciamo poste Del cuore Vabbè Oggi non mi perderò Fall Guys Ciao Zombo Comunque Mario Ti corrego Si dice balbuzie Non balbuzie Cosa Così Mario io non ho La ragazza Ma cosa me ne frega Hanno spostato Il ponte di Ravenna Com'è possibile Peppe Non penso sia possibile Persevera 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 Non ti rendere Anche se dice no Continua a pensare Per sempre Va bene Puoi chiedere a Dario Se ha voglia Di fare una run Su Crash 4 Te lo dico io Uga Uga È in vacanza Non posso ragazzi Quante volte Avete cagato Nella vostra vita Tante bro Tante Sicuramente Non è in Bavaro Pose Dario Che è disteso Pure lui Come Ha appena Sbadigliato Forse non ha manco Sentito Il commento In chat Talent scout Ora Non è possibile Mario Puoi bannare Doflamingo Finchè non inizi A parlare bene No Perché Che cosa ha scritto Di così tanto sbagliato Vediamo Contro l'ultimo Commento di Doffy Giusto per capire Quanto l'ha buttata Di fuori Non lo vedo Ciao Mario Ciao Dariuzzu La mia ragazza Mi ha lasciato Il giorno di San Valentino Godori Rimani solo per sempre È stupido Che poi Oggi è lunedì Il momento Mario Si sta facendo lo stesso Hai visto Guarda che bello Siamo proprio fortunati Infanto Dei ragazzi Ragazzi Vanno e vengono Demos Slayer Rimane lì Ah proprio Stai imitando Ignazzo Stai imitando In che senso Demos Slayer Rimane lì È il manga preferito Di Ignazzo Non lo sapevo Ma che c***o Ti sei chiaramente recuperato la posta del cuore con Ignazzo No Non conosco questo format Non è un format Questo non è il Poliquist Duel Anche perché non c'è Blur Ciao Mario e Dario Ciao Mario e Dario Secondo voi Accumulando l'intera urina Prodotta dagli abitanti di Colle Salvetti Negli ultimi 25 anni Si raggiungerebbe il volume di liquido Della placca di ghiaccio Groenlandese E no Dario Ma che succede? Pronto? Ma che c***o è successo? Dario 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 Vabbè rimango in chiamata Sta dormendo Che grande velocità Pronto Dario Sei tornato Dario 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 mi senti? Dario Pronto? Era rientrato in chiamata E poi no Lo ricorderemo sempre Sorridente E pieno di energie È caduto? Non nel senso che Ha sbattuto la testa Ed è morto È caduto a livello di connessione Sarà in un postaccio Uno non può dormire Che devi svegliarlo Ma non No È lui che è venuto Alle 22 22 in Francia C'è il coprifuoco del web Sì va bene Ha visto il video di Surry Ed è stato male Quale video di Surry? Ignazio ha reclamato Il suo tempo Non è vero Rip no Tranquillo Ciao Mario Sto per fare un giro Della Sicilia orientale Da solo in auto Dormirò una notte In ognuna delle città Messina Siracusa Noto Marzamemi Catania Mi consigli qualcosa Da vedere A Messina Potresti andare a Cristo Re Dove c'è un bellissimo panorama Chau Grazie a tutti A me A me A me A me Grazie a tutti.